500 grammi di rimacinato di semola, mezzo litro di latte, tiepido, il succo di un'arancia, la scorza di un'arancia, grappa o rum, una bustina di vanillina, mezzo cubetto di lievito e un pizzico di sale. Sciogliamo il lievito con un poco di latte. Aggiungiamo il rimacinato di semola, il succo dell'arancia, la scorza dell'arancia, il rum, una bustina di vanillina. Continuate ad impastare per circa dieci minuti, fino a che avrà questa consistenza. Poi coprite e lasciate riposare circa due ore. Trascorso il tempo dovrà avere in superficie queste bollicine. Così è pronta. Mettete il composto in una sac à poche. Se avete l'imbutto va benissimo. Quando l'olio sarà ben caldo, formate una spirale con l'impasto. fate cuocere sia da una parte che dall'altra, fino a che saranno ben dolate. scolatele da l'olio. Ora passate le zerbole nello zucchero. Spero vi sia piaciuta la ricetta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!